Salve, salve, allora io sono Salvatore Maria Zuccarello Karel, ma voi chiamatemi Karel che non è l'attore americano, è la parte centrale di Zuccarello, mi sono sempre dato questo nick da sempre, quindi a parte che lo trovo figo, poi Karel, sembra international è una cosa bellissima, quindi salvo Maria Karel, sono un ragazzo di 38 anni, me li porto bene, mi dicono sempre che me li porto bene, sono medio alto, 1,80 m, vivo a Roma da circa 8 anni, infatti come tutti diciamo qui a Roma so smadonnare benissimo il romanesco, anche se saprei anche parlare in siciliano, l'italiano sì, è un optional che ci sta, ci sta anche l'italiano, ah giusto, parlo pure inglese, I speak a nice English, yes, so maybe it could be a nice skill for, who knows, for an international production. Detto questo, vivo a Roma e qui ho l'appoggio qua e ho anche l'appoggio a Catania giù da me, spero quindi che magari possa uscirci qualcosa, questo qua è un piccolo video di presentazione e quindi ci si vede sul set, buon lavoro!